Dov'è l'amore non si conosce fatica, non si conosce disagio. A pronunciare queste parole fu San Francesco da Paola. Visiteremo la sua cittadina, il santuario a lui dedicato, la casa natale, per conoscere i tanti miracoli e prodigi compiuti sia in vita e dopo la morte. Da una parte il diavolo si offrì di aiutarlo, ma voleva in cambio l'anima del primo essere umano che terminato poi i lavori avrebbe potuto attraversare questo ponte. Siete pronti a scoprire una Calabria come non l'avete mai vista, che il nostro viaggio, anzi il nostro peregrinaggio, abbia inizio. Sono altri giorni, ascoltami, 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 ascoltami. Grazie Grazie Grazie.